gentili telespettatori buona giornata sondaggio euro media realizzato per la stampa dove tutto il centrodestra scende e tutto il centrosinistra sale curioso vero allora ve lo racconto fratelli d'italia perde lo 04 scende al 28,2 la lega scende dello 07 ed è al 9 forza italia scende dello 08 ed è al 7 per cento mentre ne approfittano curiosamente movimento 5 stelle e partito democratico quindi movimento 5 stelle cresce dello 03 e il pd dello 09 5 stelle al 17,5 e pd al 16,7 ma i nemici della sinistra terzo polo scendono anche loro meno 02 all'8,3 per cento mentre sotto la soglia dei tre punti abbiamo italexital 2,6 più europa 2,5 alleanza verdi e sinistra 1,9 noi moderati 1 per cento impegno civico 0,5 grazie a tutti e buon proseguimento di giornata